Oggi si parla di The Legend of Zelda. Benvenute, benvenuti, ben ritrovati, sono Francesco Tognolo, sono un docente universitario e mi occupo di videogiochi. E ultimamente qui sul canale sto realizzando una serie di video bibliografici di consigli saggistici su vari tipi di videogiochi, quindi vi invito ad andare a vedere quelli già caricati, consiglio per esempio in particolare quelli sui Souls. E aggiungo anche che accetto consigli, richieste, diciamo, quindi se c'è una serie di videogiochi che vi interessa particolarmente e su cui volete delle letture consigliate, scrivete un commento così vedrò insomma se c'è abbastanza materiale di realizzarlo in futuro, per cui iscrivetevi al canale così da tenere d'occhio questa serie di video. Rapidissime premesse. Allora, la prima è che, visto che su The Legend of Zelda c'è molto materiale, ho fatto questo video solo sui libri, libri di saggistica. Quindi articoli accademici, altre cose, li terrò per un altro video, quindi prima o poi vedrò di realizzare anche quello, anche perché c'è molto da poter segnalare anche su quel versante, tra cui anche un articolo che ho scritto io stesso, magari poi quello vi lascio comunque il link nei commenti qui sotto nella descrizione. La seconda premessa è che non sono stato a consigliare, a suggerire quelli che sono i libri ufficiali, perché tanto sono già noti tendenzialmente, quindi chiaramente sono importanti, le varie ruli storie, eccetera, chiaramente sono delle ottime letture, però il mio intento qui è un altro, quindi vedere dei testi di saggistica appunto accademici o anche più divulgativi, quindi che di solito sono un pochino meno noti. Per cui cominciamo subito con un testo proprio strettamente accademico, quindi cose anche abbastanza elevate, forse anche un po' difficili da reperire, quindi potrebbe essere che, a meno che non abbiate un account universitario, diciamo, potrebbe essere un po' difficoltoso metterci le mani sopra, però, insomma, vedete voi. Comunque qui abbiamo una raccolta di saggi, di contributi, che sono legati all'aspetto narrativo e immaginifico, diciamo, la mitopoietica, vedete, quindi proprio la generazione di miti anche, il loro utilizzo, l'epica che c'è intorno alla serie di The Legend of Zelda, tutta una serie appunto di contributi, di questioni. Devo dire con un livello differente, cioè alcuni so, premesso che tutti comunque sono delle letture utili sicuramente, cioè se uno deve fare un approfondimento, una tesi, ecco, questo è un testo fondamentale, se dovete fare una tesi in cui si parla di The Legend of Zelda. Cito le tesi perché di solito succede appunto che diverse persone mi scrivono, è successo proprio anche oggi con la persona che io non seguo, perché io ovviamente ho i miei tesisti in università che seguo come relatore, però, insomma, questa persona in un'altra università però mi ha scritto una mail chiedendo consigli su quello che sarà appunto il suo lavoro di ricerca. Quindi visto che ogni tanto succedono queste cose, ho anche detto tanto più, facciamo questi video così, insomma, sono di utilità generale. Comunque, dicevo, in un caso del genere chiaramente questo è un testo fondamentale. Però appunto ci sono, diciamo, alcuni capitoli che rimangono su un approccio abbastanza tradizionale, cioè siamo dalle parti sostanzialmente di quello che è il Viaggio dell'eroe, che tornerà anche in diversi altri contributi in realtà. Quindi appunto Viaggio dell'eroe, penso sia noto, comunque appunto ideato da Campbell, poi rivisto, ristrutturato, ripensato da Vogler, e da lì poi ha avuto tutta una serie di affermazioni. Comunque questo non è un video di narratologia, quindi non entriamo ulteriormente nel dettaglio, anche perché, insomma, ne ho anche già parlato altrove. Mentre invece altri sono sicuramente più mirati. Ecco, c'è qualcosa di un po' più specifico e curioso che viene a emergere. Comunque, ripeto, nel complesso una lettura che se riuscite a trovarla, a reperirla, vale sicuramente la pena. Cambiando totalmente invece polo-settore, qui abbiamo Zelda, cronaca di una saga leggendaria. Dico perché cambiamo totalmente, perché qui siamo invece su un versante molto divulgativo, che va bene, ovviamente, in altri casi, in altri contesti. Quindi, la lettura molto più leggera, scorrevole, non ci sono particolari, note a piedi pagina, riferimenti bibliografici e altre cose. È un testo, appunto, quindi, introduttivo. Diciamo che va bene in quel senso, va bene come ripasso. Ci sono comunque, devo dire, un paio di questioni anche abbastanza interessanti, tutto sommato. Cioè la parte, soprattutto finale, conclusiva del libro, che emerge un discorso un po' più di riflessione psicologica, diciamo. Quindi c'è tutta una serie di passaggi di Ocarina of Time che vengono riletti in un'ottica, appunto, di percorso psichico. C'è molto Jung, in particolare, come ottica, la questione degli archetipi e tutta un'altra serie di cose. Però, che qui vedete comunque, Jung, per quella che è la sua visione, è stato molto ripreso dalla narratologia, tra l'altro. Quindi, insomma, questo filo rosso che citavo poco fa è sicuramente presente anche qui. Comunque, questo è un testo pubblicato in Italia da Multiplayer Edizioni. Non è un testo che nasce come libro italiano, quindi questa è una traduzione. Mi pare sia stato pubblicato nel 2014, ma potrei sbagliare, forse era anche prima, forse nel 2012, adesso non sono stato a ricontrollare. Comunque, insomma, è in giro da qualche anno. Vale la pena, sia se siete dei collezionisti, sia, appunto, se volete un testo divulgativo. Così come, ecco, qui devo dire, c'è quest'altro, sempre pubblicato da Multiplayer Edizioni. Questo faccio una premessa, è l'unico dei testi presenti che non ho letto, di solito, perché vado più su cose accademiche, appunto. Quindi anche questo, essendo un libro divulgativo, quando mi capita lì recupero ben volentieri, però, insomma, do la priorità ad altre letture, perché per me sono proprio oggetto di studio, diciamo. Quindi se avete visto, appunto, i video recenti, avete capito, io leggo tanto, adesso ogni tanto lo dico, sono circa 200 libri all'anno. Che leggo esclusi i fumetti, quindi, insomma, è anche lavoro, eh. Comunque questo, appunto, non ho ancora avuto modo di acquistarlo e leggerlo. Ho dato un'occhiata a quella che è l'anteprima che si trova su Amazon. Mi sembra che rientri comunque nel discorso detto in precedenza, quindi di un buon testo introduttivo, di presentazione generale, che ripercorre un po' quella che è la storia di questa serie. Quindi, bene, se siete in cerca di una lettura più leggera, se in un'ottica di tesi, di studio, di ricerca, magari puntate su altre cose. O comunque leggete anche questo, però, insomma, giusto come base, ecco, su cui puoi edificare tutto il resto. Io sono comunque favorevole a leggere più che si può. Poi qui abbiamo una serie un po' particolare, diciamo. Cioè, sono testi differenti, usciti in contesti, in anni diversi, però sono, tutto sommato, messi insieme, tenuti insieme dal fatto che sono sempre The Legend of Zelda e qualcosa. In questo caso, Zelda è la filosofia, vedete. Allora, qui ci sarebbe da fare praticamente un video a parte su ognuno di questi testi. Magari si può anche fare in futuro. Cioè, ogni tanto ho fatto anche dei video su specifici libri, però... Perché dico questo? Perché anche qui i contributi all'interno di questi testi sono un po' divergenti, come interesse, curiosità e qualità anche. Quindi ci sono alcune letture molto valide o molto curiose anche, quindi che aprono proprio la mente, in questo senso, su delle prospettive inedite. Altri non sono, ecco, altrettanto ottimali. Quindi questo vale sia in questo caso qui, sia anche per quest'altro, che l'argomento comunque in generale è particolare. Vedete, Zelda è la teologia. In generale, poi, in realtà, Zelda è la religione, diciamo, perché non c'è un focus, ecco, in realtà, sempre strettamente teologico. Però, senza entrare nel dettaglio, anche qui vale un po' sostanzialmente quello che ho detto prima, ma si inserisce comunque in una serie molto ampia di contributi accademici che vanno ad analizzare la questione, la componente religiosa nei videogiochi e prima o poi ne parlerò anche perché l'anno prossimo, all'inizio del 2023, dovrebbe uscire anche un mio articolo accademico dove, facciamo uno spoiler, ecco, dove ho parlato un po' di queste cose, di queste riflessioni, insieme a un collega filosofo, prendendo come base Nier Automata. Quindi, insomma, ci sarà molto da dire, un po' di cose che voglio tirar fuori su Nier Automata, prossimamente ci sono. Dunque, insomma, anche qui, teneteli buoni, ecco, in generale, se gli argomenti vi incuriosiscono, tenete conto, appunto, che sono libri miscellanei. Quindi c'è un curatore che ha messo insieme i contributi di varie persone, autori e autrici, ciascuno ha fatto un capitolo, quindi a volte, appunto, l'interesse delle singole parti può variare. Lo stesso discorso ancora, la psicologia di Zelda. Quindi anche qui, senza entrare nel dettaglio, poi magari anche lì, se c'è interesse, ditemelo nei commenti, magari facciamo dei video appositi. Però vale un po' lo stesso discorso di prima. Mentre invece ci sono poi testi più monografici, diciamo così, dedicati anche, appunto, magari a singoli videogiochi. Quindi questo è uno. Questo è un testo autopubblicato. Tra l'altro siamo anche qui in un'ottica, oltre a questo fatto, di un'analisi un pochino più leggera. Quindi sì, ci sono riferimenti bibliografici, fonti, però ecco, non è il testo della Rathledge con tutti i docenti universitari, leggendari di quarto livello. È un'analisi, appunto, interessante di un game scholar, comunque un po' più indipendente, che ha realizzato questo, è un altro libro che vedremo tra poco, dove appunto va ad affrontare tutta una serie di questioni, in questo caso su The Wind Waker, che tra l'altro, aggiungo anche, un titolo personale, è uno dei miei The Legend of Zelda preferiti. Ci sono tanti che mi piacciono, però questo lo porto nel cuore anche per motivi personali, diciamo così. Quindi l'ho letto, e non solo l'ho letto, ma ho avuto modo di citarlo in un paio di occasioni per quell'articolo accademico che vi dicevo prima, che a sua volta era su The Legend of Zelda, che è stato pubblicato in una rivista di epica, ed era proprio, appunto, l'epica marittima come viene declinata, ripensata, riconsiderata all'interno di The Wind Waker. Quindi, anche qui, è un buon testo, abbastanza leggero, quindi siamo comunque in un'ottica tutto sommato divulgativa, una lettura che potete fare, insomma, con abbastanza tranquillità. Ovviamente in inglese, molti che vedete sono chiaramente in inglese, eccetto, ecco, quei due di multiplayer ed edizioni che citavamo prima, che sono stati appunto tradotti. A livello di capitoli, anche qui, ci sono parti un po' più interessanti, va a fare delle considerazioni, per esempio, spaziali sui dungeon, che comunque hanno la loro sensatezza. Altri magari sono un pochino anche lì più classici, c'è sempre il viaggio dell'eroe, cose di questo genere, che per carità, è vero, si applicano a tantissime questioni, proprio per questo, però dopo un po', insomma, se avete già letto un po' di cose, ecco, sul viaggio dell'eroe, magari in particolare nei videogiochi, insomma, l'argomento l'avete già sentito, lo masticate, già. Anche qui, stessa cosa, analoga su Majora's Mask. Gioco molto particolare, molto interessante, su questo, quando farò il video sugli articoli accademici, c'è da tirare fuori tanto, perché lì si va a toccare, per esempio, anche tutta la questione delle creepypasta, tra l'altro, perché, insomma, c'è anche un legame tra mondo di Zelda, non solo Majora's Mask, e le creepypasta, ma, appunto, quello lo teniamo per un'altra parte, perché, se no, il video diventava enorme, in questo senso, c'era veramente tanta roba da consigliare, quindi, così come per quello sui Souls, penso che lo spezzerò, ecco, in questo modo. Comunque, anche qui, l'auto, la persona che l'ha scritta è lo stesso, ci sono, vedete, ho il focus, il solito lo potete intuire, e vale un po' quello che ho detto in precedenza. Su Majora's Mask, però, se avete questo interesse, e in effetti è possibile, perché rimane comunque uno dei giochi più misteriosi, per tanti punti di vista, della serie di Zelda, c'è anche un altro libro, che è questo, che è della Boss Fight Books, serie molto curiosa, molto interessante di libri, sono arrivati, credo, quasi a una trentina, e questo è abbastanza recente. Ho avuto modo di citare, anche un altro dei loro testi, tra l'altro, nel video precedente, che avevo fatto, di carattere bibliografico, che era su, le opere di Fumito Weda, quindi c'è anche un libro, della Boss Fight Books, proprio su Shadow of the Colossus, quindi, se vi interessa anche quello, andate a guardare il video. Anche qui, insomma, quindi, ottimo, se avete, un particolare interesse, curiosità, verso questo videogioco, mentre invece, se volete, panoramiche, più a 360 gradi, volgete lo sguardo altrove. Questo è molto particolare, non mi sento, ecco, di consigliarlo in generale, perché è una cosa abbastanza specifica, qui rientriamo potentemente, nel discorso di saggistica accademica, siamo nell'ottica della musica. Questo è un testo, diciamo, di musicolo, videomusicologia, ecco, videoludomusicologia, anzi, perché, appunto, c'è tutto un filone, di studi universitari, dai, diciamo, i musicologi, quindi, persone accademici, che si occupano di studiare, quello che, appunto, la componente musicale, spesso all'interno dei media, quindi, per esempio, ci sono diversi legami, storicamente, tra questo discorso, quel componente dei musicologi, e il cinema, oppure c'è anche un discorso, di etnomusicologia, quindi, che va a unirsi, anche a quelle che sono, invece le abitudini di consumo, ci spostiamo più verso la sociologia, ora, poi sto semplificando, ovviamente, giusto per rendere il video comprensibile, poi ci sono molte più sfaccettature, ora, potete intuire che un gioco come The Legend of Zelda, abbia suscitato molto interesse, da questo punto di vista, perché ha una forte tradizione musicale, che proprio va anche oltre, poi, a quella che è la semplice, che poi semplice non è colonna sonora, ma coinvolge anche un uso attivo della musica, quindi, non è un caso, ecco, che in questa piccola serie, di questo editore, su, appunto, testi di musicologia videoludica, uno di questi sia su The Legend of Zelda, se vi interessa, gli altri due pubblicati al momento, sono uno su Final Fantasy, e anche lì è un nome piuttosto ovvio, e l'altro è un discorso più ampio, sfaccettato su usi e recuperi della musica, del passato, dei videogiochi, quindi diciamo un discorso di retro gaming, tanto per semplificare, quindi insomma, questo però, di nuovo, siamo nell'ottica di letture un pochino più tecniche, ecco, quindi valutate, insomma, se è un discorso che vi serve per studio, o se avete una forte passione, ottimo, cercate di recuperarlo in qualche modo, altrimenti vi direi di stare più magari su altro. Chiudo anche con un paio di capitoli, quindi siamo sempre nell'ottica dei libri, però invece che avere dei testi interamente dedicati a The Legend of Zelda, come saga o a un videogioco in particolare, abbiamo delle opere che parlano di varie cose, di vari componenti, a volte neanche solo legate ai videogiochi, ma su vari aspetti, dove c'è dentro anche The Legend of Zelda. Quindi, qui per esempio, accommetto questo, che tra l'altro l'avevo a sua volta citato anche nel video su Fumito Ueda, perché proprio questo numero di Well Played, conteneva anche un saggio, che era legato appunto alle opere di Ueda. E trovate anche questo. Vedete, quindi di nuovo un discorso di viaggio, ma anche di legami, di connessione, legato a The Legend of Zelda Ocarina of Time. Aggiungo che questo è un libro in open access, quindi se lo cercate, trovate il sito dell'editore, potete scaricare liberamente il PDF. Per cui ogni tanto appunto ci sono, in ambito accademico, testi del genere. Anch'io uno degli ultimi libri che ho realizzato, di cui sono uno dei due curatori, è open access, quindi lo potete scaricare. Se andate, c'è sempre qui sotto, link alla mia pagina delle pubblicazioni, lo potete trovare da lì e vedete un po', insomma, anche in generale quello che faccio. Quindi questo, poi un altro, lo troviamo qui dentro, questo libro con una copertina particolarmente brutta anche, ma tanto insomma non è quello l'interesse, il focus. C'è un capitolo che torna un po' di nuovo su un discorso filosofico, se vogliamo, con Breath of the Wild. E dice che, diciamo così, il sugo, il nocciolo, il punto centrale di Breath of the Wild sarebbe in un certo senso quello di essere da soli, il che però non è così un elemento banale, ma porta con sé tutta una serie di considerazioni, riflessioni e valutazioni che vengono portate avanti per andare appunto a dire che questo, trovarsi appunto di link in questi spazi molto più estesi rispetto al passato, dove spesso appunto è solo, ed è una solitudine tra l'altro declinabile in vari modi, insomma, ha tutta una serie di chiavi di lettura che si porta con sé e che vengono qui sviscerate. Ancora questo, interessante, perché lo troviamo in un libro, anche qui, che non è legato solo ai videogiochi. Vedete, qui siamo in un'ottica un po' sostanzialmente diciamo di ecocritica, un discorso che anche qui ho citato a volte in alcune occasioni, quindi una tipologia di analisi letteraria, nasce come analisi letteraria, poi si sviluppa anche su altri media, molto interessata, molto legata a quello che è il rapporto tra l'essere umano e l'ambiente, che ovviamente ha centomila declinazioni e sfaccettature. Qui, in particolare, abbiamo un discorso, vedete, legato al Lankenni. Lankenni è un elemento disturbante, che qui vado a ipersemplificare, perché ci sono tanti discorsi interessanti, forse avete sentito parlare dell'Lankenni Valley, se non l'avete sentito parlare, ditemelo magari. Facciamo un video anche su quello, perché sono tutti contenuti di utilità generale, informativi. E qui, vedete, c'è il discorso dei boschi, il discorso appunto del The Legend of Zelda legato all'elemento appunto del bosco, che spesso è un luogo dove smarrirsi, dove perdersi. E quindi, questo comporta tutta una serie anche qui di riflessioni a riguardo, perché questo elemento appunto è legato comunque sia anche a una componente Lankenni Disturbante, che viene poi sottolineato in tanti altri modi, soprattutto poi a seconda del gioco. Comunque, insomma, questo è un po' giusto per fare sempre una panoramica generale. E chiudo con quest'ultimo contributo, che trovate anche qui in questo libro di carattere generale, appunto, le donne nei videogiochi storici e archeologici. Quindi, ci sono vari capitoli, ovviamente, come potete intuire, si parla di Lara Croft, si parla della serie Uncharted, si parla di giochi di questo genere, però c'è anche un capitolo su The Legend of Zelda, dove qui si parla della principessa Zelda come trofeo, diciamo, quindi un discorso di carattere anche femminista, diciamo, sempre per semplificare, che però va anche a osservare in realtà quella che è una componente un po' in realtà più complessa e sfaccettata del personaggio, quindi, che va anche a discutere su quell'appunto che sono diverse questioni di rappresentazione di genere, che è un argomento che, perlomeno in ambito accademico, legato al mondo dei videogiochi, dei game studies, è molto forte, diffuso, ci sono un gran numero di contributi, anche di tesi, che progressivamente vengono realizzate a riguardo. Quindi, appunto, questo era per farvi una panoramica, vi lascerò poi in descrizione anche, penso, il link per il mio articolo accademico, che potete leggere gratuitamente, lo trovate appunto sul sito della rivista dove è stato pubblicato, e però ne parleremo insomma più nel dettaglio in un altro video. Come detto, liberi di lasciare un commento anche per chiedere ulteriori video come questo, su delle serie di videogiochi o anche singoli videogiochi, che vi interessano particolarmente e quando avrò poi tempo vedrò di realizzarle. Per cui, anche per questo, iscrivetevi al canale così da tenere d'occhio i contenuti futuri che usciranno e ci vediamo al prossimo video.